Poi si è scanzato, guardala Ci sta venendo adosso? No, ti ho tirato in giù A quanto? Ehi, questo povero è il cantino, però è più veloce di noi Sì, va bene, è sgrassato, no? Ooooooh Che è? Ah, sta per scoppiare Mi sono spaventato, cazzo Stavo scendendo un po' di gno, vi scoppiare Ma sai cos'è che si mette da bene su questa nave che ce n'hai ragazzi, tutta una... Sì, però c'è un po' di legno che è schifio là ragazzi Ma se puoi dire cosa sta sul brigantino? Sì Quindi correndere gli errori per l'handic Sì Sì Ho i c***o, possiamo fare questo facile o possiamo fare questo più facile Quindi come cosa vuoi sorrendere il tuo belotto e ci f***erà, ci f***erà Ci f***erà Sì, ma è spesso Sorrendere il tuo s*** o ci f***erà Ci f***erà C***erà 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 Uuuu sta salendo, sta salendo la sinistra Siamo preoccupati, siamo preoccupati, vai, per te dai la scala Stai facendo un attimo, è andato alla... Eh? È andato alla sirena, dove la sirena? Se mi ha aggiustato un po' le ville... Cioè, andremo comunque sicuramente più veloce che loro che stanno senza la bromax Stai aggiustando un minuto? Eh sì sì Vabbè, bene così, bene così Pronti, via la prossima scarica Sì Troppo la zavoranza, io che parto vero No, basta di fare veloce perché stiamo... Uh, ci vuole... Ha serzato, sto stronzo Pronto, oggi? Porco, ce ne sono morti Oh, è vero... Non mi sta valentieri, io mi sono... E ci sono buttata mare Bile, faccio bene E l'ultima E la buttata è... Oh, è mei, non ho finito, non ho fondato Oh, stava, stava giocando un po' divenza Oh, è vero, non ho fatto Oh, è vero, non ho fatto Oh, è vero, non ho fatto Oh, non ho fatto, non ho fatto Oh, è vero... Allora, è stato pochino, guarda, fate caccare, ci avete nemmeno ucciderci Sì, voglio dire... Hanno perso Fate credere, non la vedete? No, no, non... Non ucciderci Sì, ha detto, non ci avete nemmeno ucciso Non sapete giocare Certo Non mi ha fatto una palla di cacoliente, se tu ci non trovai No, certo È proprio un fantasma, l'hai visto, ragazzi? Sì, sì, è fortissimo Sì, è fortissimo Ma vanno qualcosa? Una bandiera, mi mando solo bandiera, un dei mercanti Ah, ok Ah, ok, effettivamente Ah, non è quello che riesce Sto tornando Ah, ok Riesci a darmi la tua posizione in qualche modo? Questa, dittami Ah, lo vedi? Ok, ok